E' stato intitolato Sabato pomeriggio il parco attrezzato di Terranova Bracciolini che è stato dedicato alla figura di Tiziano Terzani, colui che è riuscito a promuovere una cultura di pace combattendo contro l'indifferenza, raccontando la crudeltà delle guerre. Io lo definisco un viaggiatore del mondo ma anche dell'interiorità e siccome è sempre stato un promotore di una cultura di pace, delle relazioni, degli incontri, ci è sembrato giusto intitolare il parco pubblico attrezzato che è uno dei luoghi preferiti della nostra comunità proprio per incontrarsi e per stare insieme. Ecco il perché di questa scelta e siamo molto contenti che a condividere questo momento ci sia la moglie di Tiziano Terzani Angela Staude. Gli occhi più commossi erano sicuramente quelle della signora Angela Terzani Staude, dopo aver visto che ancora una volta i cittadini di Terranova erano presenti per omaggiare suo marito. Nel 2002 quando uscirono le lettere contro la guerra e Tiziano cominciò a parlare in pubblico, prese questa decisione di portarle direttamente al pubblico, non di passare attraverso le librerie eccetera. Terzani Nuova Bracciolini fu quella dove lui fece il primo più grande discorso e anche il primo posto dove c'era così tanta gente a aspettarlo. Lui rimase proprio folgorato, disse ma come è possibile? Possiamo dire che da lì cominciò a partire questo interesse per quello da qui, per quello che lui aveva da dire. Per cui per noi la nostra famiglia Terzani Nuova Bracciolini è il numero uno in tutta Italia. Un omaggio importante che l'amministrazione comunale ha portato avanti grazie anche all'impegno del consigliere regionale Enzo Brogi. Sicuramente è un'occasione per ricordare un uomo che ha rappresentato non solo in Toscana il pensiero di pace e di partecipazione, che sono due straordinari valori, la pace e la partecipazione.